No, da questo punto di vista ognuno può dire quello che vuole, anche il capo dello Stato è giusto che pensi che la cosa fondamentale sia la velocità. Io penso da questo punto di vista che le riforme vanno fatte bene, non dimentichiamo che questa riforma tra l'altro è una sorta di controriforma, perché va a modificare degli errori che adesso sono ammessi che si sono fatti nella riforma del titolo quinto dieci anni fa.